Allora io ci avrei tantissimi da andare a fare ma purtroppo il tempo è tiranno però io vi devo fare una domanda non posso non chiedervi allora noi ci vediamo voi tornate parliamo sempre della Roma e siamo sempre allo stesso punto cioè parliamo sempre di una stagione della Roma non positivissima anche questa non è finita però è indirizzata in modo un po' strano diciamo anche quest'anno secondo voi perché tutti gli anni ci ritroviamo sempre allo stesso punto? Guarda le risposte possono essere tante io ti do la mia riflessione quando tu trovi una squadra che ha perlomeno una base solida sulla quale puoi lavorare tu non devi vendere quei giocatori tu devi avere la forza di tenerli se tu continui a vendere giocatori e ne immetti i nuovi li vendi li rimetti li rimetti tu la squadra non la fai mai guarda la Juventus la Juventus ha altri budget ha altre finanze ha altra economia però Bonucci sta là Chiellini sta là ci sono dei giocatori che sono fissi cioè puoi cambiare un centro avanti però quei 4-5 giocatori restano noi li cambiamo tutti e questa è stata una tragedia adesso avremmo avuto i debiti quindi via Salah via Scesni via Allison io non guarda nemmeno soprattutto la sessione di Salah non te la perdoni mai alla Roma io l'avevo capito che era un giocatore straordinario straordinario l'avevo capito però il problema di Roma è questo che il tifoso vede che sta sotto porta e magari svirgola una palla adesso Liverpool Liverpool le mette quasi tutte dentro per lui il giocatore me lo so corre però non c'è il tiro se c'è una cosa che c'è a Salah è il tiro allora non si può subito lapidare i giocatori devono giocare adesso lasciamo perdere quelli che abbiamo però la Roma deve si deve mettere in testa che per esempio i giocatori come Zaniolo se Zaniolo vorrà restare devono rimanere e probabilmente dovrà diventare il capitano insieme con Pellegrini Pellegrini deve restare sono dei giocatori che devono restare perché se non rimangono si ricomincia un'altra volta da capo e quei giocatori sono essenziali per la manovra della Roma non ti sto parlando di un attaccante che può essere sostituito ma ti sto parlando di quelli che hanno il motore del centro campo sono fondamentali ma non dobbiamo più vendere nessuno cioè una volta trovata adesso non so se questa è la squadra migliore ovviamente però tutte le vendite che abbiamo fatto sono state veramente dei grossi danni invece un'ultima domanda sul essere capitano romano romanista nella Roma è un privilegio è un privilegio ma è anche un bel peso è un peso è un peso insomma dopo Totti De Rossi Florenzi insomma diciamo lo so però Pellegrini mi pare che è romano no? sì auguriamoci che Pellegrini migliori sempre di più e tanto la fascia si è capito che la prenderà lui quindi ha grandi qualità gli serve forse un pochino più di continuità perché fa delle partite spettacolari con delle intuizioni e dei tagli che sono meravigliosi certe volte alcune volte è un pochino impreciso però parliamo di un giocatore di assoluto livello io lo stivo moltissimo ecco sì e un'ultima domanda da Pallotta a Friedkin da un americano all'altro cambierà qualcosa? non si sa bisogna solo aspettare e vedere oppure voi con questi americani no non è questi americani questo Friedkin innanzitutto è una persona seria io mi sono informato tra l'altro ha lavorato anche nel Cilio lavora come produttore cinematografico guidava l'aereo guidava gli aerei ma tutti guidano l'aereo non è quello no no è un texano ama la cultura ama l'economia è tutto chiaramente l'americano viene anche per fare business è normale che un presidente della squadra vieni a fare business pure io se avessi i soldi loro dico sì ma fatemi fare business perché non è che posso tirare fuori sempre solo i soldi e non mi rientro a niente parlo dello stadio parlo dello stadio adesso vediamo questo stadio dove cavolo sarà fatto perché ancora non l'ho capito io personalmente spero che non sia così lontano perché non so chi ci valla così lontano dove non ci sono neanche le strade adatte però lo stadio l'ha fatto la burocrazia deve essere un pochetto più leggera perché sennò questi qua si stufano quando io andai da Pallotta cinque anni fa a pranzo da lui a Boston cinque anni fa lui mi disse dice ma lei come fate a vivere in un paese così pieno di burocrazia mi disse io non riesco a capire perché nessuno mi dà appuntamento io che chiedo appuntamenti nessuno mi risponde ai miei appuntamenti ma io devo fare lo stadio mi diceva a me stavo con i miei figli e fu molto gentile e già capivo che non capiva che stato era l'Italia con tutta sta burocrazia effettivamente non gli si può dà torto la burocrazia è una cosa folle in questo paese folle e non ripartirà mai fino a quando non ci non alleggeriremo molte cose quindi anche nello sport quindi questo vorrà lo stadio bisogna dargli lo stadio bisogna dargli una chance imprenditoriale ma farà bene perché c'ha voglia è molto ricco fra l'altro e poi prima da pure ieri che non è una cosa sbagliata giusto? non ho capito guida anche gli aerei dico pilota anche gli aerei quindi insomma è una cosa in più speriamo che guidi bene anche la Roma eh speriamo esatto che comunque è un aereo non facile da guidare non indifferente esatto un bel Boeing bello grosso è difficile allora io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti è stato veramente un onore allora ricordiamo l'appuntamento il 26 febbraio il 26 febbraio in tutta Italia esce si vive una volta sola regia interpretata da Carlo Verdone con Rocco Mapaneo Max Tortora Anna Foglietta e si ride da morire grazie ancora e si ride e si riflette come tutti i film è una buona commedia non è che si ride sola è una bella commedia grazie mille grazie mille ancora e alla prossima grazie a tutti un saluto